Dottore Lazio, vediamo un po' questi episodi di Amo Viola di questa domenica. Ohi, beh! Se ti tradissi, mi perdoneresti? Non ho capito. Se ti tradissi, mi perdoneresti? Ma stanno le telecamere nascoste, stiamo girando una puntata di beautiful. Che stai dicendo, Mario? Rispondi, muerto almeno. Mario, se mi tradissi, andrei da quello con cui mi hai tradita e gli darei il numero del dottor Mingozzi. E chi è? L'oculista. Rispondi. Sì, ti perdonerei. E perché? E che faccio? Ti lascio e me ne devo andare pure da casa? Poi dove cazzo? Vado a dormire. Quindi mi perdoneresti non perché mi ami, ma perché sei un materialista? Sì. No. O posso accendere la televisione, Mario? Fai schifo. Quando fai così sai chi mi sembri? Ridge Forrester. Sei un porco, un porco. Ah, tu mi tradisci e io sono un porco. Mario, ma che c'hai? Perché tu non mi ami più a me? Non mi ami più. No, mi chiedi muerto alla Cristina. Da quanto è che non mi dici una cosa carina? Guarda. Gli è che ti ho detto che la pasta stava buona di sale. Ah, che bello, che bello. E da quanto è che non mi fai un regalo? Sei anni fa ti ho regalato Giuseppe Nostro. Sei anni fa io volevo i bimbi, tu come al solito hai capito male e mi ho fatto il bimbo. Pensi di merda. Eh sì, ovviamente, è sempre colpa mia, no? Non mi fai così perché sai che io sono buona. Ma quanto è vero Dio, guarda, oggi io... Eh no, lascio tutto, esco e vado con il primo che incontro. Sì, farlo da quando esci da casa, però, sai che insomma mi incontro e mi ricominciamo da tutto a casa. Che ti pensi? Che questo corpo non ha niente da dire? Ma ti faccio vedere io. È facile così, ma ora ti faccio vedere io. Buonasera. Chi cerca? Facciamo due passi? Dio, ma perché ce l'hai con me con questo accadimento? Mi è passata a pulire del tradimento. Vaffan...